Il filo conduttore che ho sentito in tanti interventi dagli States a Lisbona, passando per Parigi, è quello della libertà, della paura contrapposta al coraggio di dire la verità. Stavo pensando, ascoltando l'amico Vivek che diceva che dovete dire in pubblico quello che pensate in privato, quante crisi di governo, se potessimo dire tutti i giorni, non lo dico per il governo italiano, penso ad altre realtà, anche perché lo dico agli amici stranieri, il governo italiano che gli italiani si sono scelti nel 2022 andrà avanti fino al 2027, non un minuto di meno, quindi stanno provando a dividerci ma non ci riusciranno. E ripeto che in Giorgia ho trovato non solo un'alleata ma un'amica, certo anche fra amici, ogni tanto ci sono punti di vista diversi.